Vi leggo quello che riporta l'Ansa dal transatlantico. Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti davanti ai giornalisti. Hai già espresso la tua soddisfazione per il risultato? Stai già festeggiando, dice la Russa a Toti. Che è imperturbabile, dice l'Ansa e gli risponde. No, vi lascio spazio, vi lascio andare avanti. Quindi pochi minuti dopo, sempre davanti ai taccolini dei cronisti, secondo scambio. Chi è che ha tradito? Si chiede alla Russa. Guardate, tra i centristi in Forza Italia, dice la Russa. A questo punto passa di nuovo Toti e gli dicono io sarei contento se avessi 70 parlamentari, ma non è così. Per dire che sono molti di più di quelli di Coraggio Italia, i numeri, anzi il doppio di quelli di Coraggio Italia, quelli che hanno voltato le spalle da Casellati. E la Russa infatti dice, beh, infatti ne hai la metà, cioè, come dire, conti poco. Ma questo fa capire, a parte che è scherzoso e che magari i due adesso stanno bevendo insieme, non lo sappiamo.